Ciao a tutti lolissimi e benvenuti in questo nuovo video! Allora, oggi faremo un set fotografico a Balto e ho già montato lo sfondo e adesso mettiamo tutte le luci e sarà a tema carnevale quindi vi metterò un po' di clip e poi vi metterò le foto finite e modificate e niente, spero che questo video vi piace se così è, mettete tanti pollici in su e niente, vi lascio al video! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Allora, se il video vi è piaciuto lasciate tanti pollici in su e iscrivetevi al canale, mi raccomando e commentate facendomi sapere cosa ne pensate di questo shooting Alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.